Luca Autori, premio letterario racconti nella rete insieme alla Fondazione Pascoli di Castelvecchio per la serie di incontri culturali Giovanni Pascoli, narratore dell'avvenire, ha promosso un incontro con gli studenti delle scuole superiori e delle scuole medie di Barga che si è svolto al Cinema Roma. Protagonista, Simona Dallachiesa, che ha presentato il suo libro Carlo Alberto Dallachiesa, un papà con gli alamari. Nutrita nell'occasione a rendere omaggio alla figlia di uno dei rappresentanti più significativi della legalità e delle istituzioni, morto per mano della mafia, anche la presenza delle autorità militari e civili, a cominciare dai comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, colonnello Arturo Sessa e colonnello Marco Querqui e dal questore Dario Sallustio. Sul palco, insieme all'autrice, la sindaca di Barga Campani, Alessandro Adami, presidente della Fondazione Giovanni Pascoli e Demetrio Brandi, presidente di Luca Autori. Simona Dallachiesa ha parlato ai ragazzi come una figlia, condividendo in particolare alcuni insegnamenti del padre. Io credo che ci siano stati due insegnamenti fondamentali che mi sono stati lasciati da papà. Uno, diciamo, di tipo pubblico, che è il rispetto e l'amore per le istituzioni. Da un punto di vista privato, credo che l'insegnamento più grande sia stato quello dell'amore per la famiglia, l'amore tra di noi e anche l'amore verso gli altri, aprire la famiglia ai bisogni, alla solidarietà. Ma perché legare Pascoli a Dallachiesa? Giovanni Pascoli scrisse una lettera al figlio di un direttore di una banca in Sicilia, il dottor Notar Bartolo, per esprimire tutto il suo cordoglio, tutta la sua vicinanza per l'uccisione del padre, uccisione avvenuta per mano della mafia. Quella di Barga è stata anche l'occasione per parlare di Luca Autori e delle iniziative di questa edizione 2023. L'incontro con Simona Dallachiesa rientra in questa collaborazione con la Fondazione Pascoli, che si portiamo avanti da alcuni anni, quindi sono molto contento anche della risposta del pubblico e degli studenti soprattutto.